Lo ripetiamo anche per questo stand, ritroviamo anche degli amici, ritroviamo anche delle persone che abbiamo già avuto modo di ritrovare nelle scorse edizioni, siamo di nuovo con emozioni. Con emozioni, esatto, ci si rivedro, è una bella esperienza, una bella emozione ovviamente, perché comunque è un evento importante per le future coppie che si vanno a sposare, per cui qui trovano un contesto adatto ai loro fabbisogni. Noi ovviamente trattiamo un po' tutto, le bomboniere, le partecipazioni, viste nozze, l'illuminazione, per cui noi siamo un'azienda che propone tante soluzioni. Anche quest'anno, adesso finisce per noi sposi, ma poi ci si ripensa per un altro anno, a cosa fare? C'è sempre qualcosa da inventare, qualcosa per stupire gli sposi? Ma sicuramente, ma anche degli astucci particolari, degli astucci luminosi, ormai ecco la tecnologia si sta anche inserendo nelle bomboniere, ecco anche la bomboniera utile, spesso ecco ci si chiede, vorrei trovare una bomboniera che abbia anche un'utilità, e ci sono parecchie aziende che adesso fanno anche queste bomboniere, diciamo utili, per cui c'è una gamma ormai basta. Quello che chiedo io è anche la bomboniera per i famosi testimoni, che continuano ad essere anche loro importanti per un matrimonio, e quindi a loro va anche un ricordo particolare, che non deve essere magari un soprammobile, ma qualcosa che possa tornare utile. Ma sicuramente, il testimone è la persona più vicina agli sposi, per cui è naturale fare il pensiero più importante, ma ci sono veramente belle cose per i testimoni, ma tra l'altro conoscendosi vanno a ricercare già anche loro stessi il regalo idoneo al parente, spesso anche il fratello, la sorella, per cui ecco è naturale che sia un regalo importante. Ok, allora ricordiamo dove si trova emozioni. Noi ci troviamo a Messina sul Viale Boccetta e a Rometta sulla Nazionale. Ok, allora grazie, come sempre buona fiera. Grazie altrettanto a voi e auguri ai futuri sposi.